Buonasera, buonasera, bentrovati a Che Sarà? Buonasera ad Alessandra Todde, presidente della regione Sardegna. La posso chiamare presidente? Todde? Tecnicamente? Sì, mi può chiamare presidente, va benissimo. Sì, sì, ovviamente dovremmo aspettare per l'insediamento il tribunale, ma al momento mi può chiamare presidente. Senta, cosa ha contato di più nella sua vittoria? Vittoria, come abbiamo detto anche ieri, come avete sentito, in questi giorni del centro-sinistra, peraltro non tutto unito, perché c'era un altro candidato supportato dal cosiddetto terzo polo, che però è una figura importante del centro-sinistra e del centro-sinistra sardo, cioè Renato Soru. Cosa ha pesato di più nella sua vittoria? Cosa ha influito di più? Cosa ha azzeccato lei che gli altri non hanno azzeccato? Ha contato la squadra, ha contato il fatto di essere una coalizione forte, coesa, che ha rappresentato un'alternativa concreta rispetto a quelli che erano i problemi della Sardegna. E quello che ha contato molto è che questa squadra si è mantenuta unita durante tutto il percorso, è stata coerente e io davvero sono felice di poter dire di essere l'interprete di questa coalizione. Ho sempre detto di non sentirmi un capopopolo, ho sempre detto di non sentirmi una donna sola al comando, invece mi fa piacere essere riusciti a creare un gruppo che lavorerà a coeso per il cambiamento della Sardegna. La Sardegna se lo merita. Presidente, ha parlato in un'intervista della sua determinazione nuorese. Diciamo che la determinazione sarda è no da tanti, ma in che cosa ti specifico la determinazione nuorese rispetto a quella romana o a quella sassarese o a quella milanese? Beh, che io sono barbaricina e i barbaricini sono noti per essere determinati ai limiti dell'ostinazione, per cui questo sicuramente è una caratteristica che è proprio del contesto da cui vengo e quindi sicuramente questo mi ha aiutato, il fatto di essere dedicata, il fatto di essere appassionata e di voler assolutamente portare avanti un obiettivo. La cosa più ostinata che ha fatto nella vita? Essermi dedicata a un contesto, a un mestiere che era assolutamente maschile e quindi essermi trovata in contesti molto maschili a difendere la mia competenza essendo una donna. E questa è una cosa che mi ha aiutato tantissimo ovviamente a crescere, a voler credere anche alle mie possibilità. Sappiamo che lei ha girato il mondo, è stata una manager in tanti paesi, otto paesi se non erro, compresa gli Stati Uniti. È stato difficile o facile farsi valere? È stato difficile perché ovviamente partendo sempre da contesti appunto che erano normalmente dedicati a mestieri maschili, all'inizio il processo era sempre lo stesso, diffidenza, ovviamente sospetto rispetto alle qualità e poi invece una grandissima collaborazione nella misura in cui si capiva che ero in grado di svolgere il mio lavoro e in grado di svolgerlo bene. Anzi, i miei detrattori molto spesso si sono trasformati in supporter importanti e questo è una cosa che mi fa piacere. Qualcuno ha detto, mi sembra che alla Gard, tanti uomini mi hanno ostacolato ma non hanno fatto la mia stessa carriera. Quindi diciamo che è una frase un po' cattiva, però insomma ci possiamo raccontare tutte. È importante, una delle cose che mi dà soddisfazione in questo contesto di aver rotto questo tetto di cristallo dopo 75 anni di storia dell'autonomia della Sardegna c'è una donna, presidente della regione. E questo è importante non tanto per me, ma quanto per il fatto di dimostrare che si può fare e che noi possiamo prenderci ogni ruolo. Allora, io ho qualche minuto di pubblicità, però dopo le volevo fare una sorpresa musicale, perché c'è un grande cantante che è innato a Milano ma è anche sardo, lo abbiamo visto a Sanremo mentre cantava con i tenores di Bitti che sono peraltro patrimonio dell'umanità unesco e quindi diciamo ha un orgoglio italiano nel mondo e sardo nell'Italia e nel mondo pubblicità e dopo ci ritroviamo con Mahmood e Alessandra Todde. Non so se aveste visto Sanremo, Todde, per noi riascoltare Mahmood con questa che è una delle canzoni più belle di sempre, ovviamente Lucia Dalla è stata anche qui in studio, una grande emozione. Vi conoscete con Mahmood, la mamma è sarda, come sappiamo tutti. Sì, non lo conosco, ma devo dire che mi sono emozionata moltissimo, mi sono emozionata perché sentire una canzone straordinaria e mortale come Profondi il mare con i suoni della mia terra, con quelle vibrazioni che sono così proprie della Sardegna è veramente stata una cosa emozionante. Mi sono emozionata anche adesso, credo che si possa vedere. Quindi lo ringrazio per aver portato la Sardegna, averla fatta conoscere nella musica e soprattutto credo che sia importante fare in modo che ogni espressione possa essere conosciuta, perché è davvero emozionante. Bene, allora le interrompo un'emozione, come si diceva una volta, perché le faccio vedere cosa ha detto, ma lei lo sa, la Premier Meloni da Toronto. Sto parlando del tema conteggio delle schede, di conteggio dove mai avverrà. La ascoltiamo insieme. Secondo me bisogna aspettare a vedere intanto come finisce questo primo riconteggio che si sta facendo e poi valuteremo se è il caso di andare a verificare. Però diciamo che intanto mi pare si stia assottigliando parecchio lo scarto e le cose erano andate meno peggio di quanto sembrasse. Innanzitutto, Todde, com'è possibile che è passata una settimana e ancora non c'è il conteggio di tutte le schede? Perché ancora non c'è, giusto? Perché il Tribunale sta facendo la verifica sui verbali che sono stati consegnati e sta ovviamente verificando le schede che sono state contestate, ma i verbali comunque ci sono che sono quelli che sono a disposizione anche del Tribunale e quindi noi ovviamente sulla base di quei verbali e sulla base delle informazioni che abbiamo avuto siamo abbastanza sereni, devo dire, perché è vero che lo scarto si è ridotto ma era atteso che si riducesse e quindi noi veramente siamo tranquilli. Aspettiamo ovviamente quello che dirà il Tribunale perché il compito è quello di verificare e di controllare. Ma è uno scarto che è rimontabile perché lei dice che siamo abbastanza sereni. Siamo sereni o siamo un po' sereni? No, chiaramente il tema è sì, siamo tranquilli perché lo scarto c'è. Noi abbiamo una forchetta da 1450, 1600 voti. E quante schede mancano? Quanti mancano? No, non manca nulla. Cioè conteggiando tutto quello che è stato, i verbali che sono stati conteggiati. quindi non è che questo margine si può assottigliare. Poi vedremo come andrà, insomma, vedremo quelle che saranno le valutazioni. Io, insomma, chiaramente mi rimetto a quello che è insomma, quello che è il parere del Tribunale e ci mancherebbe altro è il loro lavoro. Però ecco, insomma, diciamo che dai verbali quello che emerge è questo quindi non ci dovrebbero essere sicuramente grandi sorprese. Meloni, quel famoso comizio di Cagliari lei sul palco all'appoggio di Truzzo la prendeva in giro perché nell'intervista aveva detto che la principale differenza fra lei e il candidato di Fratelli d'Italia era l'antifascismo e la platea diciamo rideva. Pensa che abbia pesato anche questo nel voto? Lei ha detto che hanno pesato i manganelli anche, no? Ha proprio detto all'inizio le manganelli e i sardi hanno risposto con le matite ai manganelli ha raccontato di aver incontrato degli elettori ecco, l'antifascismo secondo lei ha pesato e cosa risponde a Meloni che invece insomma la prendeva un po' in giro per quella dichiarazione? Intanto quello che ha pesato è che ci siamo occupati dei problemi dei sardi e che abbiamo espresso delle soluzioni rispetto a una situazione dell'isola che è Maceri io ricordo la sanità i trasporti l'istruzione questa giunta uscente ha lasciato 3 miliardi che non è stata capace di spendere poi si è ricordata di programmarne due a due giorni prima delle elezioni quindi siamo veramente a dei livelli incredibili anche dal punto di vista del rispetto delle regole istituzionali detto questo io ricordo che l'antifascismo è il nerbo della nostra Costituzione io sono orgogliosa di dire che sono antifascista il candidato della Meloni aveva difficoltà evidentemente da questo punto di vista e quindi io credo che sia importante ricordarci che siamo in una Repubblica che ha questo come nerbo la spina dorsale della nostra Repubblica è l'antifascismo e ricordarlo credo che in alcuni momenti sia estremamente utile sia utile nella misura in cui ci sono dei comportamenti che magari possono essere non in linea con questo tipo di spina dorsale della nostra Costituzione e quello che mi ha colpito ovviamente mi riferisco ai fatti di Pisa e il fatto che si trattasse di ragazzi giovani di ragazzini l'hanno detto i loro insegnanti e se un ragazzino non è libero di esprimere il suo dissenso non è libero di sognare non è libero di pensare di poter cambiare il mondo ma chi lo deve fare? Ultima domanda Todd lei ha girato il mondo sul palco non ha voluto i leader per cui mi fa anche un po' ridere perché poi in realtà da una parte lei ha vinto il centrosinistra diciamo giustamente rivendica questa vittoria però lei ha vinto anche senza diciamo così il comizio finale con Conte Schlein accanto e quindi diciamo questa è un po' una contraddizione ma in realtà io li ho avuti accanto per no io in realtà li ho avuti accanto per tutto il percorso sono venuti entrambi in Sardegna a sostenermi e sono venuti dopo ugualmente a sostenermi era importante focalizzarsi sulla Sardegna io ho sempre detto che l'isola non è un laboratorio e Sardi non sono delle cavie ed è importante ed era importante in chiusura focalizzarsi su quelle che erano le nostre priorità io ho preferito portare mia madre e mia nipote perché la cosa importante per me era far presente perché era importante per me essere tornata in Sardegna e perché mi stavo spendendo così tanto perché voglio che sia centrale il patto generazionale su questo un ultimo su questo ho la domanda la mia ultima domanda però sul peso nazionale della sua vittoria posto che appunto il centrodestra dice all'esempio che hanno preso più voti rispetto al candidato quindi dice noi come coalizione abbiamo più voti perché c'è stato il famoso voto disgiunto di cui tanto si è parlato di tanti elettori della Lega ecco la vittoria del centrosinistra in Sardegna ha un valore nazionale secondo lei? ma io credo che abbia dimostrato che la destra non è imbattibile e che una coalizione con un buon candidato riesce chiaramente a portare a casa il risultato io quello che voglio ricordare è che il 50% o comunque una grandissima percentuale di Sardi si è astenuta e questa è una cosa su cui bisogna riflettere io voglio essere la presidente di tutti i Sardi e sarà mia cura convincere chi non mi ha votato sia perché si è astenuto ma anche perché ha votato l'altra parte e chi non è andata a votare perché è importante governare per tutti questo veramente credo che sia fondamentale e io sarò misurata su questo allora lei ha detto che la spinta per tornare nella sua terra è stata data dalla sua mamma Cecia che ha voluto si chiama Cecia giusto? sì Francesca e Francesca sì diceva Cecia per cui immaginiamo che fosse un diminutivo e sua nipote Francesca mi dica solo in conclusione qual è la cosa più importante che sua mamma le ha insegnato e che lei sta trasmettendo a sua nipote che non mi devo far pagare neanche un paio di calze che bisogna essere indipendenti economicamente e bisogna essere in grado di portare avanti le proprie idee e le proprie stanze anche usando essendo indipendenti grazie presidente buon lavoro grazie a tutti